Eh ragazzi, io speravo nella serata perfetta, cioè o in una vittoria dell'Inter, comunque che preferisco, come gioco, come proposta, poi c'è Inzani comunque a cui io sono molto legato, o anche forse era meglio per noi un bel pareggio, almeno rimanevano tutte e due a debita distanza. Invece vince la Juve 2-0 con il re di vivo Kostic, che comunque chi lo conosce come giocatore sa che è bravo, ha avuto delle difficoltà, ma come tutti i giocatori della Juve, cioè vedete i Bremer, i Vlaovic, i Paredesi di Maria, i Kostic, sono tutti giocatori che in questa Juve sono involuti. Però adesso piano 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 piano, comunque la Juve un minimo in crescita lo è, cioè ha la parvenza di essere almeno una squadra più solida, anche Kostic sta dicendo la sua, due assist e due gol, vabbè, di due abitué ormai, Adrien Rabiot, che ce l'ho al Fanta Calce, l'ho presi a uno ad agosto, quindi fui lungimirante, nonostante mi ricordo che c'erano molte, alleggiavano su di lui molte voci di mercato, e poi Niccolò Fagioli con deviazione, che si conferma il titolarissimo di questa Juve, come vi ho sempre detto, perché andare a prendere Paredes quando avevi Rovella, che per esempio è dato al Monzo, o comunque a Emiretti e Fagioli, che non saranno attualmente già dei giocatori fenomenali, però in questa Juve, tanto giocatori fenomenali, forse ce n'è uno, che è Vlaovic, gli altri, sono giocatori normali, quindi una Juve ridimensionata, quindi bisogna valorizzare i giovani, cioè tu negli anni di transizione devi fare quello, non devi comprare i vecchi come Di Maria, come Parete, quindi l'errore è stato lì, della Juventus, ma già dall'anno scorso con Allegri, quindi finalmente i giovani giocano e fanno la differenza, diciamolo, quindi le cose che noi dicevamo, tanti, beh io non sono tifoso giuventino, ma anche tanti addetti ai lavori giuventini, youtuber giuventini, dicevano, e beh avevamo ragione, certo in una Juve così questi ragazzi devono giocare, tra l'altro la società bianconiera è l'unica che ha l'Under 23 tra le squadre di Serie A, quindi questi giovani poi devono essere valorizzati, portati allo step successivo in prima squadra, quindi finalmente sono valorizzati e di questo sono contento, anche se non so se è frutto perché di infortuni, di mancanza di alternative o di necessità virtù, non lo so, però dovrebbe essere invece un progetto ben chiaro, quello di valorizzare i giovani proprio in un momento in cui tu tanto, come dire, sei inferiore, no, sia in Italia sia in Europa alle altre per vincere e lottare per i titoli. L'Inter ha fatto la partita, comunque ci ha provato, poi forse poteva essere più aggressiva, poteva essere più veloce nella manovra, è ovvio che la Juve ti costringe a fare quel gioco lì perché la Juve ti aspetta dietro e poi riparti in contropiede, sono stati bravi a farlo, hanno segnato anche con Daniele in fuorigioco, Costi ci ha fatto un gran tiro e forse avrebbe meritato il gol, grandissima parata di Onana, Onana poi ha fatto una parata anche su Chiesa che è subentrato molto bella, quindi questo va a confermare la titolarità del portiere camerunense, perché sono convinto che sono anche cose che non mi piace dire, però quel tiro di Costi Andanovic non lo avrebbe preso, non perché Andanovic è scarso, ma perché ha un problema che è dell'84, il portiere sloveno, quindi Onana si conferma un grandissimo portiere tra i migliori di Serie A, forse poi ecco anche io critico sempre un po' la gestione di Inzaghi, dei cambi, no, secondo me Inzaghi lui è bravo a preparare le partite, l'ho sempre detto, però cavolo, Gose in questo momento non è presentabile, si è visto anche a Monaco di Baviera una partita che contava relativamente, Gose ha giocato malissimo e non puoi togliere di Marco quando tu devi spingere, forse, boh, anche mio padre mi diceva che secondo lui era meglio mettere a Cervi invece di Bastoni, perché poteva spingere di più, ah vabbè, c'è da dire anche una cosa, che Bastoni forse non stava benissimo, però Inzaghi con sto a Cervi è un po' fissato, poi non è il problema Cervi, sia chiaro, e poi è sempre un po' il discorso, con la difesa 3, quando hai due difensori che fanno i braccetti, a Cervi e a Scrina che sono due difensori puri, perdi un uomo quando attacchi, quindi quando devi rimontare tu attacchi sempre con un uomo in meno, è chiaro, poi mettiamoci la serata no di Lautaro, Zeko poco innescato, bene secondo me c'è la Nogu che comunque è stato viva, ha provato i vestiti, anche Barella comunque ha lottato, e l'Inter continua secondo me a non avere anche dei cambi che ti permettano di invertire la rotta, perché Correa è un giocatore che io ho amato, mi piace molto, però bisogna dirlo, ma l'ho detto già da mesi, è stato un acquisto con il seno di poi sbagliato dall'Inter, Gonses l'abbiamo detto, è impresentabile, sì, Bellanova, però anche lui deve un po' integrarsi, quindi secondo me ha pochi giocatori per cambiare la partita in corso, i cambi che fa Inzaghi li fa perché li deve fare, però in questo momento inserire Gosen, Correa, Gagliardini, vai addirittura a indebolire la squadra, chiaro, quindi purtroppo l'Inter è un po' questa, sono tutte lì le squadre, vedete, secondo me sarà una lotta Napoli-Milan, vedrete che il Milan ritornerà, adesso ho un po' di distacco, ma vedrete che lotterà fino alla fine, io l'Inter comunque sono convinto che possa ancora rientrare a dar fastidio, ok, magari per il secondo posto, non per il primo, la Juve non credo, comunque nonostante adesso sta raccogliendo qualche risultato, ma non mi convince dal punto di vista del gioco, però, oh, per carità, si vince, io i complimenti li faccio comunque, soprattutto ai ragazzi giovani che si stanno mettendo in mostra, e poi ci sono Lazio, la Roma comunque a me non piace, nonostante sia una squadra forte, e l'Atalanta comunque è sempre una realtà importante, quindi per il quarto posto io ribadisco, la Lazio può dire la sua, anzi, forse è anche più forte di Inter e Juve, non come valori, come uomini, però come gioco, come status, secondo me sta meglio di Inter e Juve, quindi la Lazio, secondo me, quest'anno veramente deve puntare forte, forte, forte al quarto posto, speriamo lo faccia, e niente, comunque ecco, devo dire che oggi pensavo che l'Inter potesse portare a casa il risultato, non ce l'ha fatta, però comunque io vedo sicuramente i meneghini con più margini di crescita rispetto ai bianconeri, nonostante, ecco, i bianconeri, a differenza magari dell'Inter, hanno più giovani rampa di lancio che possono crescere e sicuramente incidere. Ragazzi, io vi lascio, like, recuperate il video del derby, bella, buonanotte.